Buongiorno a tutti, eccoci qui, giornata molto importante, quarti di Coppa Italia, un obiettivo che l'Inter ha segnato sulla sua agenda, però tante anche le riflessioni da fare su un derby che, devo dire, ha portato prima e dopo un odio sempre crescente, quasi anche che mi fa schifo, posso dirlo, da tutte le parti, diamoci una registrata, una calmata, veramente pensavo che tutte le difficoltà, la pandemia avessero insegnato qualcosa, adesso invece avessero anche fatto capire, insomma, l'importanza di quello che abbiamo, invece mi sembra proprio tutto il contrario, si sta andando in un'altra direzione, abbiamo assistito prima del derby a battute vergognose dei soliti noti di cui abbiamo parlato fin troppo e continuano anche dopo, anche da giornalisti affermati, questi prese di posizione che mi lasciano così abbastanza interdetto. Io penso che tutti debbano fare un passo indietro, ritrovare un minimo il sorriso e sgonfiare tutto questo pallone di odio che popola i social, ma non solo, di ieri, tutta la giornata ho passato tra accuse, disputi e quant'altro, poi prese di posizione in base alla propria fede calcistica, anche di addetti ai lavori e quant'altro, un passo indietro ragazzi, un po' di serenità, un po' di rispetto, ricordandosi sempre il peso delle parole, la responsabilità che abbiamo facendo un certo tipo di lavoro. Adesso qualcuno anche mi ha attaccato per il video a caldo da San Siro di sabato sera, mi sembra assolutamente, l'ho rivisto per scrupolo, ma anzi, si criticano i cambi, l'atteggiamento della squadra che ha regalato un derby dominato e poi chiaramente anche il comportamento di chi ha sbagliato la provocazione di Teo Hernandez prima e dopo l'espulsione, l'uscita dal campo irridendo i tifosi dell'Inter, ma condanniamo anche gli insulti di Lautaro Martinez, disputo, abbiamo passato tutta la giornata a cercarne traccia, ma non se ne è trovata, anche se qualcuno sostiene il contrario. E niente, datevi, diamoci una calmata a tutti, perché da questa posizione non si va da nessuna parte, proprio, direi, una posizione assurda come quello che abbiamo assistito anche durante il derby, con quegli episodi al primo blu, di cui sentiamo anche una denuncia da un'amica che non vuole comparire, sottolinea anche il te caldo, tra poco sentiremo anche il suo contributo, proprio per farvi capire, insomma, come sia il caso di dare una registrata a tutto, perché anche di episodi del genere in un derby, che è stato sempre il sale dello sfottò, non c'era mai stato nulla di questo genere, e mi riferisco alla spedizione punitiva al primo anello blu che è andata in scena, ma poi ce la racconta un'amica. Per quanto riguarda la sfida di questa sera, beh, chiaramente il ritorno di Mourinho a San Siro, dodici anni dopo, in quella che è stata a casa sua, ci sarà un'accoglienza speciale, preparata anche dalla Nord, come conferma anche il te caldo più famoso di YouTube, e poi si vedrà in campo l'Inter che, come ha chiesto Inzaghi, sentiremo anche lui, tra poco per cercare di ripartire dopo la delusione e l'amarezza di un derby perso che ha riaperto il campionato, che ridà possibilità anche alla Juventus di tornare in corsa per lo scudetto, soprattutto se l'Inter non dovesse riuscire a vincere sabato a Napoli, altra sfida di fuoco difficilissima prima del Liverpool, quindi ci si gioca tutto in una settimana, bisogna ripartire e ritornare con la testa giusta sugli obiettivi, su anche quella cattiveria che manca, che è mancata nel chiudere una partita che l'Inter meritava, poi sento colleghi che dicono che non meritasse neanche il pareggio l'Inter, mi sembra di vivere su un altro pianeta. Sentiamo un attimo cosa ha detto invece Simone Inzaghi a Sport Mediaset, proprio è un minuto per capire la situazione e la partita di questa sera. Vediamo se arriva prima la pubblicità che schippiamo, parliamo intanto di formazione, non è stato provato praticamente nulla ieri per il forte evento da Piano Gentile, probabile che torni in porta Andanovic, non Radu a differenza dell'ultima gara di Coppa Italia, ma sentiamo Simone. Una squadra che può battere qualsiasi avversario sempre, hanno tantissimi giocatori di qualità, hanno un grandissimo allenatore come José e noi dovremmo essere bravi ad avere quella voglia di rivalsa dopo un derby perso immeritatamente, però sappiamo che il calcio è fatto di episodi e chiaramente anche la Roma non sarà contenta perché viene da un pareggio interno con il Genova probabilmente, anzi sicuramente, immeritato. Io ho la fortuna di avere una squadra forte, competitiva e poi di volta in volta mi hanno sempre dimostrato dall'inizio dell'anno ad oggi, chi per 15, chi per 30, chi per 45, chi per 90, di avere grande disponibilità e ho sempre avuto da loro. Poi abbiamo fatto una brutta sconfitta, ma dobbiamo essere razionali, bravi a sapere che è successo, si è perso, però sicuramente dobbiamo guardare quello di bello che abbiamo fatto fino ad ora, per tenercelo bene in mente, perché dobbiamo continuare su quello che abbiamo fatto in questi primi sei mesi. È il rischio appunto di buttare via tutto e non bisogna assolutamente correrlo. Dicevamo della formazione, probabilmente Andanovi ci importa, Bastoni e Skriniar insieme a uno tra Ranocchia ed Ambrosio. Credo che Ranocchia sia meritata questa partita. Poi vedremo la scelta in campo con quella rovesciata stupenda contro l'Empoli. Potrebbe aver recuperato Perisic, che io non rischierei, anche se nelle formazioni viene dato titolare. Non si può rischiare di perderlo con quello che aspetta l'Inter e che è un po' anche poi sarebbe la conferma insomma anche della bontà originale delle sostituzioni fatte sabato sera a San Siro. Dicevamo poi centrocampo forse senza cambi o sostituzioni. A destra Darmian, Lautaro Sanchez in attacco con Dzeko inizialmente in panchina, Caicedo ancora fuori così come Correa e Gosens. Che si aspettano e potrebbero essere molto importanti. Serve un recupero veloce ma senza rischiare ricadute. Come abbiamo visto, già ha avuto Gosens andare con testa, col piede di piombo. Dicevamo un derby da dimenticare non solo per il risultato, perché purtroppo sono accaduti tutti quegli episodi sul primo anello blu che non devono accadere. E ne sentiamo... Sono Sofia e sabato 5 febbraio mi trovavo allo stadio a vedere il... Sentiamo Sofia. E volevo dare la mia testimonianza su dei fatti accaduti durante la partita, fatti purtroppo gravi. Mi trovavo al primo anello blu insieme a mio padre, i fatti con intenzione di segnalare sono avvenuti durante il secondo tempo, quando la Corba Sud ha rimesso lo striscione della coreografia per toglierci la visuale e lanciando un fumogeno sempre per impedirci di vedere la partita. Tutto questo sarà durato più o meno 15 minuti e si aiutavano a tenere giù lo striscione con le bandiere in modo che il vento non l'alzasse e continuano a non farci vedere nulla. Abbiamo chiesto più e più volte a chi di dovere se potevano far alzare lo striscione ma non siamo né ascoltati né aiutati e lo striscione insieme alle bandiere è rimasto giù. Un signore come tutti noi, stanco di tutto ciò, avendo evidentemente la bandiera alla sua altezza, gliel'ha presa e l'ha tolta lanciandola via. Quindi da qui scoppia il vero disastro perché poco dopo abbiamo visto scendere una tentina all'ultra della Corba Sud, tutti vestiti di nero, chiaramente con cattive intenzioni. Da qui la mia domanda è anche quella di mio padre che forse è anche il punto più importante. Come hanno fatto ad entrare dato che i cancelli teoricamente durante le partite dovrebbero rimanere chiusi? A questo spero che arrivi presso una risposta perché secondo me la sicurezza negli stadi è veramente fondamentale, dovrebbe essere il punto più importante. Detto ciò, ritornando ai fatti, è cominciata una rissa e inizialmente solamente con l'uomo che aveva strappato la bandiera, ma poi un po' con chiunque si trovasse lì senza considerare se erano uomini, donne, bambini, addirittura anziani. Sui social, oltre alla mia, sono uscite anche per fortuna altre testimonianze di altri ragazzi e ragazzi presenti che hanno affermato che sono stati picchiati signore e anziani. Oltre ai video che poi sono usciti dove si può annotare ciò. Ragazzi, censuriamo tutto questo, ci dissociamo da qualsiasi tipo di episodio di violenza e che serva, insomma, da riflessione per tutti in ogni campo, insomma, non si può andare avanti in questo modo, non è assolutamente accettabile, quindi tiriamo una riga e andiamo avanti cercando che questi episodi non si possano mai più ripetere in nessun modo, in nessuna situazione. e ci stringiamo a tutti quelli che hanno subito naturalmente violenze, poi donne, bambini, anziani, ma stiamo scherzando. Su via! Quindi un derby completamente da dimenticare. Adesso facciamo una operazione di andare avanti, però è difficile, come abbiamo detto in apertura anche del video, mi sembra proprio che non abbia insegnato niente tutto quello che abbiamo passato e mi dispiace anche nel mio piccolo se non sono riuscito a far arrivare i messaggi giusti. Adesso leggiamo un po' i vostri, prima di andare a leggere, a fare la nostra consueta rassegna stampa. Vediamo cosa avete scritto. naturalmente la fa da padrona la delusione, ma come vi abbiamo ricordato non bisogna assolutamente cancellare, avete sentito anche le parole di Inzaghi, quanto fatto di buono fino adesso, ci si gioca tutto, bisogna ripartire nel modo che l'Inter ha sempre fatto, come dopo la sconfitta di Roma. Un ricordo per Mauro Bellugi, anche se sei lassù, ti auguro col cuore un buon compleanno, nato nelle giovanili della nostra Inter, anche tu sei nella storia di questi colori e ci mancherebbe altro. Grazie Maurizio Colino che ce l'hai ricordato. Luigi Fantauzzo, la delusione non è passata, rialziamoci, non roviniamo il buono che abbiamo fatto in questi mesi, vinciamo le nostre partite e non ci deve interessare cosa succede in altri campi. Caro Marco, non c'è equilibrio nei giudizi tra social, media e tv, è vero che ci sono stati errori durante il derby, a mio avviso sia soprattutto peccato di Killer Instinct, ma guai ad esagerare, siamo primi. Mercato invernale è ottimo e possiamo guardare al futuro con ottimismo, dobbiamo semplicemente imparare la lezione. Giovanni Soresinetti, come spesso accade, non avendo secondo me una stampa sportiva equilibrata, arrivano critiche, cataclismi, annessi per la sconfitta nel derby, come se non ci fossero domani. Ci sono sicuramente criticità da affrontare e risolvere, ma con obiettività, la cosa che mi fa star tranquillo è che avendo uno staff tecnico di primo ordine e una dirigenza top, sapranno come gestire il momento. Antonella, non aspettavano altro che in un tonfo dell'Inter, gufacci dappertutto e con solo due partite perse, tutti giù dal carro, reset e avanti tutta. Massimo Vignali, come sempre, dov'è la novità? Basta vedere i titoloni dei giornali, campionato riaperto, chi ha mai pensato fosse già chiuso con quattro punti di vantaggio, quattordici partite da giocare, l'abbiamo sempre sottolineato. Giuseppe Carollo, la partita non giocata nel secondo tempo ha coperto le magagne dell'arbitro per 90 minuti, dobbiamo dire che i tre punti persi contro lo Spezia li hanno restituiti con gli interessi. Giovanni Cosso, ma cavolo anche noi interisti che subito andiamo a criticare allenatori e giocatori, direi anche qui si è persa un po' l'obiettività, l'equilibrio. Luca Rossi, rimarrò sempre dalla parte di Inzaghi, però speriamo che impari anche dai suoi errori. Ne abbiamo già parlato, basta tornare anche sulle sostituzioni. Rosario, le sconfitte ci aiutano a crescere, rialziamoci e impariamo dalle sconfitte. Gino Cuomo, sono così arrabbiato che ti aspettavo con ansia per sfogarmi, ne ho viste tante da quel famoso 9-1 con Umberto Agnelli, presidente FGC, allo spareggio col Bologna con penalizzazione per doping annullata alla fine del campionato e poi Giuliano su Ronaldo, molto simile al Giroud su Sanchez di domenica e poi nel 2002 con arbitraggi scandalosi nelle partite precedenti, l'Olimpico col Chievo, l'Atalanta e proseguendo il fallo di Pjanic su Raffinia dopo che Orsato aveva spusto Vessino ancora lo stesso Guida che al VAR richiama l'arbitro per un rigore per un fallo a palla lontana sono arrabbiatissimo al diare dei nostri errori anche se è difficile subire tanti falli non puniti e punire noi sull'unico fallo provocato molto più lieve di quelli simili subiti la partita è stata determinata da Guida secondo lo sfogo di Gino buongiorno non capisco si era più tranquilla all'andata con i punti di svantaggio che adesso contro il Milan tra andate e ritorno hanno conquistato quattro punti che nemmeno loro sanno come sia successo Danny Paolo P in questa settimana ci siamo resi conto che c'è gente che sa perdere molto male come se da dieci anni fossimo sempre stati primi il Pedro è facile ti fare dire che si è interisti quando tutto va bene brutta sconfitta è vero ma abbiamo il dovere di stare vicino alla nostra Inter bravo Pedro fallo o non fallo su Sanchez il problema è che l'arbitro non ha usato lo stesso metro di giudizio tranne qualche intervento su Brahim Diaz i nostri raffischiati tutti interrompendo anche azioni potenzialmente pericolose Ni Lai non c'è nessun particolare disastro c'è solo da prendere atto che abbiamo due attaccanti che negli ultimi due mesi stanno segnando poco e senza i gol delle punte certe partite soprattutto di alto livello è difficile vincerle Lord Byron trovo che la cosa più sconfortante sia il fuoco amico in molti troppi si dicono interisti ma non conoscono il profondo significato dell'essere interista Matteo Moreschini si continua per la nostra strada gli incidenti di percorso ci stanno e servono proprio per capire dove si può fare meglio buona questa analisi Germanico sempre qui con te con i nerazzurri perdere ci può stare basta con questi blackout non si può ma pazienza continuiamo a crescere sul fallo a Sanchez la penso come te sai cosa facevo io da ragazzo quando l'arbitro non fermava il gioco facevo un controfallo per bloccare l'azione anche a costo di prendere un rosso questo non è un insegnamento edificante la delusione parecchia Francesco Ferrox dà fastidio perdere un derby soprattutto di questa importanza analizzando il tutto la cosa che mi passa per la testa è una sola arroganza Marco Malaguti questo è il mio primo intervento sul canale solo per confermare che sono tanti anni che la nostra Inter non sviluppava un gioco così corale siamo limitati ma in fase conclusiva ma il nostro fuoriclasse è marotta e si è mosse avanti a tutte e sta costruendo un grande gruppo lasciamo lavorare i fuoriclasse derby amaro ma cancellato riprendiamo il nostro cammino Arianna nessuna tragedia gatto nonomolo nel corso di una stagione a volte capita perdere punti contro squadre di basso livello bruce tanto perdere così ma dopo quello che si è visto rimango tranquillo fiducioso rider direi che abbiamo abbastanza analizzato la situazione leggiamo ancora qualche messaggio dei nostri abbonati che supportano il canale ricordo gruppo Telegram free Marco Barzaghi Inter cercatelo iscrivetevi e poi anche il gruppo dedicato a chi supporta il canale in cui potete anche chattare con me e con tutto il gruppo su tutte le cose di attualità e non solo Bruno Pollini giusto lato analisi sui cambi devrai vestire le valigie in macchina la sconfitta l'unico guaio che in caso di parità finale vincono loro i cugini sono inferiori non hanno le coppe vediamo ancora se c'è qualche amico abbonato che ha un minimo di corsia preferenziale Luca Clerici Sanchez non doveva perdere quel pallone dobbiamo mettere più concentrazione cattiveria agonistica hai assolutamente ragione anche perché se non avesse perso quel pallone staremmo parlando di tutta altra situazione anche di classifica e di campionato vediamo se arriva qualche altro messaggio ne avete scritti una marea un'infinità poi andiamo in edicola a leggere la situazione come ripartire Giovanni Zaccaria la tua disamina iniziale del video non fa una grinza da fuori classe condivido ogni parola scusa se sono ripetitivo potresti dedicare un saluto alla mia amica Serena 40 su piccolo Daniel certo che li salutiamo li invitiamo qui sul nostro canale Serena e Daniel vi aspettiamo e poi e poi vediamo un po' direi che ci siamo possiamo passare alle ultime notizie da sport media set appuntamento ore 13 taglia 1 ma soprattutto ore 21 su canale 5 inter Roma da San Siro fishnaller sfiora la medaglia e quarto pattinaggio figura grassa e l'erizzo avanti nel libero bassino no nello slalom la goggia ai giochi di Pechino ma non sa se correrà tocca Sanchez Perisic stringe i denti nella Roma c'è vera e tu le formazioni della Coppa Italia e le parole di Inzaghi la Roma è forte noi ci arriviamo arrabbiati con voglia di rivalza Murigno ritrova Pellegrini per la prima volta nel suo San Siro con l'Inter e poi vediamo tutto esaurito al Maradona e non avevamo dubbi per sabato giornali in edicola vediamo come apre la gazzetta dello sport sono curioso di vedere la copertina anche perché ci sono tanti tanti argomenti da trattare vediamo come c'è un diavolo in me copertina dedicata a Pioli al Milan ci starei per sempre feeling con giocatori di dirigenza che perché può aprire un ciclo non so di che cosa vediamo la pagina dedicata all'Inter Nerazzurri di rabbia da Brozo in giù Inzaghi chiama a riscatto i leader dell'Inter proprio per questo dobbiamo giocare anche Andanovic rabbia è la parola chiave perché l'Inter alle stazioni di servizio si è fermata poco lungo questo viaggio e ha sempre dimostrato di saper ripartire in fretta un pieno e via tre vittorie dopo le prime tre sconfitte stagionali vuol dire che la macchina funziona bene il motore resta valido pure in un momento calo di prestazioni occhio però perché stavolta è diverso stavolta una trappola per mille e uno motivi arriva dopo un derby dopo il pieno di polemiche dopo uno scodetto vinto come era quello a 15 minuti dalla fine e invece ora è tutto tornato in gioco perché c'è Giuseppe Mourinho il rischio di farsi distrarre dal trionfo di Zuccheri di San Siro è tanto sottile quanto evidente perché hai voglia di sostenere il contrario questa Coppa Italia male si incastra nel calendario giusto prima del doppio bivio della stagione contro Napoli e Liverpool e allora ecco perché Inzaghi ha battuto il tasso dell'orgoglio l'ha fatto prima dialogando con la squadra domenica mattina e poi pubblicamente ieri con le parole diffuse al canale tematico del club abbiamo perso un derby ma non è giusto dimenticare quanto fatto nei sei mesi precedenti ci voleva subito una partita da giocare c'è ancora tanta rabbia ed elusione per la sconfitta contro il Milan che sappiamo essere immeritata ma sono fiducioso visto la giusta determinazione negli occhi dei ragazzi le parole di Inzaghi e poi derby e veleni Lautaro contro Teo insulti e il giallo sputo ora rischia la squalifica ma lo sputo non c'è stato piuttosto da verificare le posizioni di Bastoni e Inzaghi per un finale ad alta tensione c'è un giallo sul momento più velenoso del derby di sabato quello in cui Lautaro Martinez si rivolge con frasi presumibilmente non idilliac e Teo Hernandez mentre il francese scende negli spogliatoi dopo il rosso per il fallo su Dumfries in una prima parte della giornata si era focalizzata l'attenzione su un presunto sputo dell'interista vistosamente frustrato per la partita a capovolta in pochi minuti il video rimbalzato sui social non chiarisce né in un senso né nell'altro invece mi sembra chiaro che non ci sia di sicuro non c'erano segnali di un'acquisizione delle immagini da parte della procura federale questo non esclude però che gli ispettori federali abbiano visto sentito il contenuto dell'episodio la vehemenza con cui Lautaro si dirige verso il tunnel degli spogliatoi e il passo immediatamente precedente a una serie di parole evidentemente non complimenti che l'argentino rivolge a Teo Hernandez e così la preoccupazione è tutta rivolta a questo aspetto gli ispettori hanno sentito in quel fragente se sì hanno segnalato all'arbitro se così fosse guido avrebbe probabilmente scritto qualcosa nel referto cosa che potrebbe portare Lautaro verso una squalifica neppure a dirlo per Inzaghi sarebbe un danno notevole sono da verificare anche le posizioni dell'allenatore di bastoni molto agitati nel post partita anche loro a rischio segnalazione e poi una notte special dopo 12 anni nel suo San Siro l'Inter omaggia il re Mou niente coreografie celebrazioni ufficiali ma pronti striscioni e cori l'ultima volta nello stadio da tecnico Nell'Azzurro il 9 maggio 2010 il cuore sarà diviso ma vorrà vincere Marco Materazzi le cose cambiano i sentimenti restano le parole di Massimo Moratti che ha parlato un po' con tutti di questo di questo gran ritorno formazioni secondo la Gazzetta Andanovic D'Ambrosio Scrini Arbastoni D'Armian Barella Brozovic Cialnoglu Perisic Sanchez Lautaro la Roma con Rui Patrizio Manzini Smolling Ibagnes Karsdorp Veretù Oliveira Evigna Mkhitaryan dietro Zagnolo e Abraham con l'unico ballottaggio tra Veretù e Cristante questo dunque sulla Gazzetta ci trasferiamo al Corriere dello Sport la grande notte di Murigno che torna nel San Siro Nerazzurro per cercare la semifinale di Coppa Italia le parole di Moratti Mo vincerà anche a Roma stasera tifo per l'Inter ma Giuse è un valore aggiunto l'Inter e Mo senza fine il presidente del triplete non mi sarei perso questo avvenimento per niente al mondo sarà strano vederlo su un'altra panchina ma la nostra gente lo accoglierà come merita che ha fatto la storia di questa società e vi dico vincerà anche a Roma il Real e quella addio nella notte acqua passata in fondo è stato il miglior epilogo possibile anche se anche quello non ci non ci è mai andato giù la grande di Murigno dovrò gestire le emozioni Rivalza Inter in Zaghi Sicuro reagiremo assalto Roma Pellegrini c'è ma in panchina il capitano pronto a entrare nella ripresa Murigno rilancia Vigna è vero e tu sono sicuro ho visto i ragazzi pronti a riscattarsi ma c'è un giallo Lautaro Sputo a Teo Hernanzes punto di domanda vi rispondiamo già che non c'è e quindi andiamo oltre questo dunque sul core sport Pioli convinto anche lui anche la Juve per lo scudetto come vi abbiamo detto sempre nonostante Allegri si nasconda qualcuno voglia anche andare oltre ma basta un attimo l'abbiamo visto a dicembre una serie di vittorie delle non vittorie delle avversarie e se tutto riequilibrato è tutto rimesso in gioco chiudiamo con tutto sport Moratti Giuseppe bentornato a casa Riecco Murigno San Siro pronto a celebrarlo tutti che vendevano questa esclusiva delle parole di Moratti alla fine ha parlato con tutti i giornali quindi di esclusiva relativa andiamo appunto a leggere cosa ha detto invece a tutto sport Riecco Murigno San Siro pronto a celebrarlo non è paragonabile a Inzaghi ma Simone ha le capacità per vincere con l'Inter il derby sia da lezione Inzaghi sarà un Inter arrabbiata tornare subito in campo dopo il derby è quello che ci voleva non dimentichiamo quanto di buono abbiamo fatto Sanchez Martinez in attacco parole anche di Toldo la sua dialettica ne soffoca la bravura branca quando parla Giuseppe ti affascina per questo non ci si accorge di quanto sia bravo nel mettere in campo le squadre e poi ancora Buffera su Zaniolo sulla sua espulsione in campionato e si prepara poi anche la partita di sabato con il Napoli con il Napoli che sogna lo scudetto e la rimonta sull'Inter il sorpasso ma questo sarà un secondo step poi anche il Liverpool adesso la Roma adesso la ripartenza sperando senza più veleni e di sgonfiare questo pallone di odio che si sta riempiendo troppo soprattutto negli ultimi tempi buona giornata a tutti l'occhiale scaramantico per oggi lo lasciamo in ricarica e non ci sembra il momento di scherzare anche se fa a volte bene ma un minimo di auto anche esame da parte di tutti sarebbe consigliato per ripartire nel modo giusto con il calcio con il giusto peso che bisogna dare alle cose come si dovrebbe aver capito ma non l'hanno fatto praticamente in pochi in questo duro e difficile periodo che abbiamo visto e vissuto tutti insieme vi ringrazio ci stringiamo naturalmente attorno a Sofia che ci ha mandato appunto il video raccontandoci tutto quello che è successo e andiamo avanti ci rivediamo stasera in live mi raccomando e prima su canale 5 buona giornata a tutti grazie